Ancora supplementari amari per l'acqua e sapone Unigros che a Pesaro perde gara 3 ed ora si trova a rincorrere la squadra di Colini nella sfida Scudetto. Domenica alle 20.30 il quarto atto da non fallire per i ragazzi di Perez per non cedere il testimone di Campione d'Italia proprio al team marchigiano che nella partita di ieri ha beneficiato di un arbitraggio non proprio all'altezza di una finale playoff. E sì perché ad indirizzare una partita bellissima ed equilibrata come le altre due giocate al Palaroma ci ha pensato uno dei direttori di gara Chiariello di Barletta non nuovo a decisioni cervellotiche come quella presa nel primo tempo supplementare quando ha estratto il secondo cartellino giallo verso Coco Wellington per una presunta simulazione che ha visto soltanto lui. Con l'uomo in meno l'acqua e sapone si è arresa alle reti di Canal e poi di Borruto. Per il resto come detto gara apertissima e ricca di occasioni oltre alle tre reti per parte. Pesaro ha dimostrato di essere squadra forte e forse anche più lucida per più tempo sul rettangolo di gioco. L'acqua e sapone da canto suo ha risposto colpo su colpo ai tre parziali vantaggi della squadra di Colini grazie alla classe straordinaria la rete dell'uno pari di Luca Ian e alla tenacia dei suoi giocatori. In fondo nelle tre gare sin cui disputate soltanto la prima è stata vinta nei tempi regolamentari dall'acqua e sapone tra l'altro con un roboante 7-2. Nelle altre due Pesaro ha prevalso ai tempi supplementari. Ma proprio per questo i nerazzurri in gara 4 domenica devono attuare una strategia ancora più offensiva che li metta nelle condizioni di vincerla prima dell'extra time. L'acqua e sapone lo ha già fatto magari sperando in un altro arbitraggio. Infine la società chiama raccolta i tifosi e mette a disposizione pullman gratuiti per tutti. Il ritrovo per quanti viaggeranno in pullman alle ore 16 alla stazione di servizio Agip di Marina di Città Sant'Angelo accanto al casello autostradale Pescara Nord. Per prenotarsi è possibile mandare un messaggio whatsapp al numero 324-8873-145 entro le ore 20 di venerdì 7 giugno. Il prezzo del biglietto d'ingresso al palazzetto è di 5 euro.